Ci fa un commento alla stagione? Bene mi sembra, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Supercoppa Italia, italiana, mi sembra che sia una stagione positiva. Abbiamo iniziato bene anche questo campionato, siamo a due punti dalla Juventus e dall'Udinese, siamo negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, esprimiamo un ottimo gioco e abbiamo assolutamente la volontà di vincere il campionato. L'ottimo gioco vale la conferma per Allegri? Sì, ma non è mai stato in discussione la permanenza di Allegri al Milan, ci sono infatti i contrattuali che però non mi riguardano e so che ci stanno lavorando. Rinnoverate? Sì, sì, penso assolutamente, sono sicuro di sì. Siete sulla manovra o soddisfacce sui modifici? Non le conosco ancora tutte, stiamo valutandole, abbiamo molte molte perplessità. Si aspetta di più da Pato per Giunti? Pato è un grande giocatore, negli ultimi tempi non si è espresso al meglio, è stato infortunato, quindi credo che debba recuperare la forma fisica e soprattutto debba consolidare una posizione davvero attaccante, mentre invece troppo spesso lo vediamo nelle parti centrali del campo, quasi sempre spostato sulla destra e questo non è il posizionamento migliore per chi deve fare gol. Il calcio, come voi sapete e me lo insegnate, nel calcio è importante vincere, per vincere bisogna fare gol, per fare gol bisogna tirare in porta, per tirare in porta bisogna essere vicini alla porta e quindi Pato deve giocare molto più avanzato vicino alla porta.